Sono solo padre del nostro amore, sono anche il figlio da esso concepito. Questo mi ha spinto a mentire. Io non posso lasciarti, capisci, mi è impossibile. Come si fa a lasciare una madre? Da ora in poi, amore. Io vivrò della tua vita, la dolce ostia del mondo. Io la riceverò dalle tue labbra. Aspetta un momento. Tu non hai bisogno di me, Gabriele. Tu non hai bisogno di nessuno. Devo andare ora, altrimenti perderò il treno. No, ma che cosa stai facendo? Cosa fai? Oltre il mio cuore... Ti porti via i miei ricordi più belli. Per ricordare hai le mie di lettere. Saranno forse meno belle, però... Sicuramente più sincere. Addio, Gabriele. E guardati. Da quel giorno non si videro più. Gabriele, dopo tre anni di gravi disagi con la principessa Maria Gravina, raggiunse i più alti traguardi di notorietà, fama e successo. Mentre Barbara passò il resto della sua esistenza nel ricordo struggente di quell'unico, infelice, grande amore.